E' sicuramente un'atmosfera molto salutare, sono circondato da persone che hanno a cuore la salute, quindi la prendono proprio come primo obiettivo di ogni giornata, quindi l'obiettivo di stare bene. Ho conosciuto degli onnivori, sono per forza tutti vegani e quindi questo diverte perché vuol dire che c'è molta attenzione nella scelta alimentare quotidiana. Ho trovato tantissima gente, uno show cooking molto affollato, ma come al solito tante persone interessate, tante persone che amano volersi bene e quindi sono sempre più attenti a quello che scelgono da mettere nel piatto. Go vegan a tutti gli amici, ciao!